il mio video è quello che ha avvisato Amiru, il quattro bienti sasa Mi sina muda, na shuizangu nyingi za kufanya Mi mwanyo kama nilipo kwelekeza, si juwe halipo Ila, bienti mwanyo anaishi hapa Kowe kama vipi, tunile kusikilizia, tuangalea movie, ata kudia tu Mimi nime kuji hapa kufanya kazi yako tu Sidi kuangalia tv, kwa sababu hata nyumbani pia nina tv Alafu amiri, tumetoka ofisini, bila utalatimu Na pia nina kazi yangu wakonda kufanya pari bukocha manjia banda ya yule bienti ya kumuangamiza Kwa sina muda kusubili, mina ondoka Sawa, kama vipi waenenda tu Lakini, miu bienti na mpenda, chesiku ondoka, tamusubilia hapa Amiru, sita kiteno hudie kunipa kazi zako Kwa mbazo hazina msingi Sawa Mbazo 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 Sì, è stato un po' di più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.